allora buongiorno da Italia Azzurro 4 Victor Quebec Serra vinco quasi sempre quasi che vi prega in direzione Monte Masorasca attivazione sota Italia Ecoromeo 313 è la vetta più alta della della zona tra la Val Taro la Valcena e la Val d'Aveto 1800 metri di quota ok manca circa un chilometro quello la alle mie spalle la è il Monte Masorasca ok in cima al Monte Masorasca sentiamo un posto un velo riparato dal vento un goccio d'acqua e poi iniziamo 1800 metri ovviamente sul tetto della Val Taro Valcena e anche Val d'Aveto Italy Zulu 4 Victor Quebec Serra Portable QRP Siku Sota India Unifor 4 Foxtrot Lima Papa para 4 Foxtrot 4 Whiskey Bravo November Roger Foxtrot 4 Whiskey Bravo November Sierra 5 7 India Lima Foxtrot Roger Sierra 5 7 India Lima Foxtrot 5 9 QSL Florida 5 Japan chilochilo Roger Florida 5 Japan chilochilo 5 9 QSL 9 August 5 Giulietta Lima Foxtrot buongiorno signor Claudio Italia Zulu 5 Giulietta Lima Foxtrot telepasso uno splendido 5,9 QSL avanti la stazione qrp avanti la stazione qrp allora italia uniform 1 quebec eco alfa roger italy uniform 1 quebec eco alfa stroke qrp italia uniform 1 quebec eco alfa giovanni dammi roger ale ciao 73 buona giornata scusami e scusami ciao grazie roger e india quebec 5 ma xr 59 anche per te moltissimo qrm ma mi arrivi bene ciao 73 oscar eco 6 golf novembre delta 59 qsl italia whisky 3 alfa golf ontario allora italia whisky 3 alfa golf ontario ago qsl italia chilo 0 gd e qsl roger 5 9 5 9 reali qsl italia chilo 2 giulia tango sierra roger italia chilo 2 giulia tango sierra 5 9 qsl ok italia universi qua scusami italia università 4 delta delta uniforme 59 qsl ok italia zelanda uniform 1 giuliette uniforme mike qsl oh scusa italia zelanda 1 uniforme giuliette mike 59 scusa ancora del cambio hotel bravo 9 avanti roger mauro hotel bravo 9 hotel india oscar 59 reali e per te 59 reali per te grazie e buon pomeriggio e florida 6 tango bravo is correct roger my friend florida 6 foxtrot tango bravo 59 qsl ok italia zelanda 5 francia sierra oscar 59 qsl roger oscar ecco 7 papa hotel india 59 roger oscar ecco 7 papa hotel india 59 roger italia chilo 1 golf papa golf 59 qsl ok roger italia zulu 0 alfa radio lima 59 roger ecco alfa 2 delta tango 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 ciao grazie a te manuel e un'attivazione non è un'attivazione se non c'è alfa 2 delta tango ciao grazie ancora delta juliet 5 alfa vittoria delta juliet 5 alfa vittoria roger delta juliet 5 alfa vittoria roger roger my friend your report is a 59 plus 59 plus thank you my friend bye bye in 73 adesso va meglio re unseen carattolo isto vitoria connect l